Per il quinto anno Piazza Grande indosserà l'abito da sera in occasione della cena bianca, iniziativa promossa da ConfCommercio in collaborazione con i ristoratori della piazza. L'appuntamento è per giovedì 18 luglio. Ritorna quindi anche quest'anno nella stupenda cornice di Piazza Grande, insieme al Prato, quindi il 18 mattina il Prato sarà montato e quindi la piazza godrà per un po' fino alla domenica di un'aggiunta di verde all'interno della piazza e la sera del 18 ci sarà la cena in bianco. Una cena molto attesa, è un evento molto molto atteso durante l'anno, non solo per gli aretini ma anche per le altre persone, soprattutto della Toscana, che vengono e che ci hanno già contattato. Il lastricato del loggiato vasariano e del palazzo di Fraternita dalle 19 diventerà un suggestivo salotto dove gli ospiti, in rigoroso abito bianco, potranno gustare piatti gourmet legati alla tradizione toscana. Una cena con un menù da sogno, quattro ristoranti insieme per un menù davvero da non perdere, tanta musica, spettacoli, intrattenimento, una serata veramente straordinaria, tutta da vivere. Fino alle 23 sarà infine possibile visitare il Museo di Fraternita e le mostre collaterali.